Buongiorno, mi chiamo Carlo Milano e per la giornata della memoria vorrei raccontare una storia personale. Un incontro fortuito avvenuto più di vent'anni fa al Casinò di Monte Carlo. Era il giorno di Santo Stefano, il 26 di dicembre, e avevo accompagnato mio padre a giocare e giocavo anche io. E giocavo nel privé del Casinò di Monte Carlo e a un certo punto mi sono seduto a un tavolo di roulette dove c'ero io, c'era un altro giocatore, un signore anziano, piccolino, e c'era il croupier. E vinceva sempre il croupier. Non c'era nessun modo per noi due giocatori di vincere. Anche se puntavamo nero usciva rosso, puntavamo pari usciva dispari. Io perdevo qualche soldo, puntavo poco. L'altro giocatore invece perdeva molto di più, puntava molto pesante e a ogni giro il croupier puliva il tavolo e portava via tutto. A un certo punto ho sentito come una familiarità con questo estraneo e gli ho detto, in inglese, non so perché in inglese invece che in francese, gli ho detto, certo che oggi di fortuna proprio non ne abbiamo. Questo signore è restato in silenzio per pochi istanti, poi mi ha guardato e mi ha sorriso e mi ha detto, io sono contento così perché nella mia vita, quando ho avuto bisogno della fortuna, l'ho avuta. E a quel punto si è alzato la manica sinistra della camicia e portava i numeri tatuati di una persona che è stata internata in un campo di concentramento. Io sono rimasto senza parole, mi si è affermato il sangue. E però abbiamo parlato. Quel signore mi ha raccontato la storia della sua vita. Lui era un ebreo nato in Polonia. Tutta la sua famiglia è stata portata nei campi di concentramento e lui è l'unico che si è salvato. Trenta persone della sua famiglia uccise. Lui è l'unico che si è salvato. E finita la guerra, è andato a vivere a New York, dove ha avuto fortuna e dove ha fatto molti soldi. E un po' di quei soldi si divertiva a perderli al casino, con grande senso dell'umorismo, e con la certezza appunto che in fondo la fortuna nella vita conta quando serve, quando serve per davvero. Nella storia di questo signore io ho visto una grande lezione per me, e penso anche per tante altre persone, che è la forza della vita, la forza dell'umanità in situazioni orribili, crudeli, come appunto il campo di concentramento. In Se questo è un uomo, Primo Levi scrive che uno degli scopi, se non lo scopo principale, della violenza contro i prigionieri dei campi di concentramento era di deumanizzarli, di togliere loro il senso dell'umanità, togliere loro la dignità di essere umani, trasformarli in strumenti da utilizzare e poi da buttare via quando non servono più. Primo Levi conserva la sua umanità durante la prigionia a Auschwitz e così ha fatto questo signore di cui non conosco il nome, non glielo neanche è chiesto. Lui, con la sua forza d'animo, con la sua grandissima dignità, con il suo grandissimo attaccamento alla vita, ha mantenuto la sua umanità e questo è ciò che lo ha salvato, ciò che gli ha permesso poi un giorno di essere lì al Casino di Monte Carlo e di essere, come dire, quasi indifferente rispetto all'episodio di un pomeriggio di sfortuna intorno a un tavolo della roulette. Lui, la sua fortuna l'ha avuta, ma soprattutto lui ha dimostrato con la sua esperienza che anche nelle situazioni più crudeli, nelle situazioni più violente, nelle situazioni più inumane, la vita ha una forza enorme e la dignità di essere umani è ciò che ci permette di sopravvivere e di uscire dagli incubi che la storia ci fa vedere e che soprattutto ci dice non devono più succedere. Arrivederci. a